buongiorno a tutti ragazzi buongiornissimo allora prima di prima di iniziare questo video intanto volevo ringraziarvi perché di solito siete sempre voi che ringraziate me e invece in questo caso devo ringraziare io voi abbiamo spaccato la grande ieri sera con la nostra tecnica Milano Napoli vi ho suggerito il 17 ed è uscito il 17 e questo 17 ha fatto i danni ma soprattutto il mio cellulare perché le whatsappate che ho sono tante tante fino a stamattina sono arrivati più di 1500 scontrini piano piano li sto postando su facebook e io ho solo una parola per voi grazie grazie perché mi seguite seguite tutto quello che io dico mi seguite anche quando la previsione purtroppo non esce ma quando esce e mi sono messo l'impegno a trovare un numero che poteva infilarsi a questa tecnica Milano Napoli e ci ho messo tanto impegno e siamo stati ripagati il 17 ha fatto il suo dovere parecchia gente si è scusata dicendo non ho pensato a mettere il 17 ho giocato solo l'ambo secco non dovete scusarvi con me perché io ho fatto il mio sono andato alla ricerca di questo numero ve l'ho messo lì ve l'ho servito in un piatto d'argento non dovete scusarvi e non dovete neanche mentirmi dicendo non ci ho pensato a mettere il 17 piuttosto preferisco che mi dite non ci ho creduto che usciva il terno è veramente per un pelo non è uscita la quaterna perché anziché il 18 è uscito il 16 se non era una quaterna però ripeto non dovete scusarvi con me io il mio l'ho fatto dovete scusarvi con voi stessi perché vi siete persi un interno parecchi mentre molti l'hanno preso andiamo a vedere questa è la previsione eccola qua milano napoli tecnica regalata a tutti 17 75 la previsione è la 75 18 75 81 e già questa così come era ha spaccato col 75 81 in ambo secco 75 17 ambetto ma questo 17 che io ho aggiunto è questa che ha fatto la differenza perché è uscito il terno in cinquina 17 75 81 gruppo borati 26 e 65 ambetto secco spaccato tecnica il gladiatore 43 45 e 48 e molte di queste persone che avevano acquistato per questa previsione questa sera si sono apportati a casa il terno secco ma non a chiacchiere con gli scontrini allora andiamo a vedere un po di scontrini eccolo qua andiamo a vedere il primo eccolo qua e va bova aspettate un attimo che se lo giro si si fa aspettate un attimo allora ecco adesso non si gira più eccolo qua 17 75 81 terno secco terno secco 4.000 e rotti euris 17 75 81 eccolo qua eccolo qua questo si chiama terno secco ma non pagando un centesimo seguendo una tecnica che ormai è diventata nostra anzi saluto anche Orazio il 17 se andate a vedere quel video dopo andiamo a vedere quante visualizzazioni ha fatte 17 75 81 andiamo avanti penso che se l'aveva fatto qualcun altro mamma mia cosa succedeva 17 57 81 ambo in terzina andiamo avanti chi ha fatto un po' un'insalata ma il terno l'ha preso andiamo avanti 17 57 75 81 terno in quartina terno su tutte terno su ruota terno su tutte andiamo avanti 75 81 ambo secco giocato due volte 75 81 75 81 18 75 qui c'è l'ambetto e poi la giocata intelligente come l'avevo scritta io eccola qui tutto regalato andiamo avanti 17 18 75 81 terno in quartina a me quello che la gente mette non mi interessa andiamo avanti 17 18 75 81 3 euro di giocata ci siamo portati a casa un po' di soldini ma vi dico è questo un saluto alla nonna alla nonna nonna nescia 17 75 81 un terno da 2000 e passa euro e salutiamo la nonna nescia avete capito perché sono io che vi ringrazio perché mi seguite siamo il canale più seguito stiamo sfondando i 19 mila iscritti e seguite la lettera a quello che vi dico ma non io ho fatto vedere dieci scontrini ma adesso andiamo a vedere la seconda parte degli scontrini degli ambi secchi dei terni in quartina d'eterno secco andiamo allora ecco perché vi dico sono io sono io che vi ringrazio non voi ma sono io che ringrazio voi andiamo sulla mia pagina facebook aperta a tutti ovviamente eccolo qui allora intanto andiamo a vedere questo eccolo qui 43 45 48 tecnica vi dico la verità è uscita al decimo colpo ma è uscito il terno secco e questo è il mio gruppo abbonati gli è rimasta nei gomiti perché gliel'avevo postata gliel'avevo regalata sul gruppo abbonati non hanno avuto la costanza perché dovete capire che nel gruppo abbonati quando si arriva dopo tre colpi che non si vince per qualcuno la previsione va cambiata e stasera 43 45 e 48 terno secco sulla ruota di Torino eccola qui in un'estrazione due terni andiamo avanti allora partiamo da qua vai la scarrellata 26 66 gruppo abbonati 26 66 vado veloce perché non voglio stare qua una mattinata ovviamente qui mi raccomando è vietato giocare la quaterna perché scherzi se esce la quaterna poi magari uno c'è il problema dove li metto i soldi e fate bene non giocate solo ambo e terno la quaterna non giocatela 17 75 ambo secco più ambetto qui devo girare il cellulare qui allora 75 81 17 75 81 terno secco 4.250 euro 4.250 euro 17 75 ambo secco 75 81 ambo secco 18 75 ambetto 17 57 75 ambo in terzina 17 18 75 eh? si è portata a casa si è portata a casa 6.000 euro sta signora qua 6.000 euro con una tecnica regalata su youtube andiamo avanti andiamo avanti allora giriamo il telefono andiamo avanti altro terno secco 17 75 81 altre 4.000 e rotti euro regalati 17 75 18 75 26 66 qui c'è un errore madornale non ha messo il 17 non ha creduto ha creduto all'ambo secco ma non ha creduto ammetterlo perché se no portava il terno si è mangiato il terno per non aver sbagliato non ci ha creduto e vabbè andiamo avanti allora 17 77 18 75 ambo secco ambetto andiamo avanti 75 81 17 81 guardate quanti terni si sono persi per non unificare Milano Napoli 18 75 81 avete visto per non mettere il 17 per non mettere il 17 vabbè contenti voi 17 18 75 81 20 centesimi di terno portati a casa più ovviamente gli ambi andiamo avanti 17 75 17 75 ambo secco 18 75 ambetto 26 66 ambetto nel gruppo abbonati 26 66 gruppo abbonati possiamo stare qua in eterno questo è quello di prima 75 81 possiamo stare qui fino a domani mattina più c'ho l'altro telefono pieno di qualsappate 26 66 17 75 2 euro di ambo 75 81 altri 2 euro di ambo più il terno ovviamente la quaterna anche qui inutile giocarla perché se dovesse uscire la quaterna e dove rimettiamo sti soldi 17 75 ambo secco 2 euro di ambo secco qui vabbè un po' insalata vabbè ma tanto 75 81 ambo secco giocato due volte 18 75 giocato due volte e poi il terno tutto regalato ecco un altro terno secco 17 57 no no qui non è terno secco qui ha giocato 17 57 81 e ha fatto il terno secco perché poi ha mandato lo scontrino col 17 75 81 andiamo avanti 17 75 andiamo avanti 26 66 terno mangiato perché mettere il 17 vuoi che esce proprio il 17 ma figuriamoci terno mangiato andiamo avanti 26 66 26 anche questo mese l'abbiamo preso 17 18 75 giustamente l'altro fare 17 81 75 no perché sennò avrei speso altri 2 euro e per carità che scherzi tecnica ripetente 43 45 48 terno secco altri 4.500 passa anche qua guardate no vi faccio vedere questa si gioca 17 75 e prende 2 euro di ambo poi fa 18 57 75 81 perché mettere il 17 ma se qui l'hai messo il 17 perché non l'hai messo pure qui vabbè punti di vista anche qui perché non mettere il 17 e poi perché giocare la quaterna si sa mai io a volte mi domandano ma se qui riusciva la quaterna e non l'avevate giocata ma c'era veramente da sbattersi la testa contro il muro 18 57 75 81 qui addirittura neanche il terno perché ma che scherzi che esce il terno non sia mai se esce il terno dove li metto tutti sti soldi poi vabbè 26 66 vabbè posso andare avanti fino a domani fino a domani posso andare avanti molti festeggeranno un buon natale ma molti si mangiano le mani ma non perché hanno sbagliato perché non ci hanno creduto e non ci hanno creduto perché non credono perché sono ancora convinti dando retta a qualcuno che nonostante fa buonamenti che nonostante vende i numeri continua a dire che la lottomatica è truccata e vi fate impapucchiare il cervello da questi soggetti che vi ripeto fanno abbonamenti vendono numeri però si permettono di dire che la lottomatica è truccata se la lottomatica era truccata 75 e quelli 17 non sarebbe mai uscito mai perché anche loro vedono le nostre dirette su youtube ma voi vi fate impapucchiare da questi soggetti che vi continuano a dire che il gioco dell'otto è truccato è truccato il gioco dell'otto però continuano a fare abbonamenti e a vendere numeri vabbè ognuno fa quello che vuole allora detto ciò io sono anche un po' stanco ovviamente arriveranno ancora devo ancora aprire tanti scontrini grazie veramente a tutti dovrò fare oggi pomeriggio l'aggiornamento del gruppo abbonati perché adesso abbiamo una bellissima terzina da giocare su due ruote poi avevamo 65 26 che abbiamo preso in ambetto spaccato per voi di youtube cercherò c'è il 90 eccolo qua c'è il 90 del capitano sono sette estrazioni che il 90 non sortisce esclusa la nazionale e ovviamente c'è il 90 c'è il 90 del capitano sapete che quando il capitano vi dà il 90 al 90% il 90 esce allora questa è una previsione lo dico in primis siccome novembre in festa 2 è stata donata nel mio gruppo abbonati tra l'altro attenzione perché ci sarà un aggiornamento anche lì perciò l'estrazione è domani sera perciò lo dico per tutti i miei abbonati aspettate il mio aggiornamento perché probabilmente verrà aggiornato anche anche il novembre in festa 2 perché questa sera ha pagato un ambetto su un'altra ruota perciò probabilmente è da cambiare questa previsione lo dico in primis poi c'è chi si incazzerà chi non si incazza a me non mi interessa perché sapete benissimo che non campo con gli abbonamenti non mi interessa fare abbonamenti questa previsione visto che nel gruppo abbonati sarà donata novembre in festa 2 non sarà postata perciò tutti quelli che vorranno acquistarla l'acquisteranno se volete acquistarla altrimenti non l'acquistate il 90 del capitano abbiamo una ruota principale è una seconda secondaria vi dico già che giocheremo il nostro 90 vi dico anche la ruota una delle due ruote ve la dico sarà Bari il 90 del capitano c'è la condizione perfetta sulla ruota di Bari ovviamente per tutti tutti quelli che vogliono acquistarla basta che mandate un messaggio su whatsapp lo dico in anteprima per tutti gli abbonati non mandatemi il messaggio voglio il 90 del capitano perché ovviamente mi avete stonato la testa per regalarvi novembre in festa 2 vi tenete novembre in festa 2 chi vuole il 90 del capitano lo acquista abbonato o no ripeto non c'è bisogno non ho bisogno di fare abbonamenti non ho bisogno di andare a elemosinare abbonamenti perciò decido io come e quando si regala sul gruppo abbonati ok allora c'è la previsione col 90 che si può acquistare da oggi pomeriggio non da questa questa mattina ma da oggi pomeriggio perché farò la locandina 90 su due ruote lo andiamo a prendere un solo ambo un solo ambo e poi proviamo il terno i terni escono ve l'ho dimostrato i terni escono assolutamente per voi amici di youtube questa previsione è conclusa sapete che i numeri non hanno memoria possono risortire tranquillamente ma onde evitare problemi è uscito il terno poi se ci pagherà di nuovo per carità per chi lo gioca datemi il tempo di preparare qualcosina oggi pomeriggio anche per voi e poi nel pomeriggio inoltrato o massimo domani mattina andate sul canale youtube e vedete se c'è una previsione in regalo per voi dico andate perché a volte non vi arriva la notifica così almeno non perdete il video o il regalo che vi faccio ragazzi il 90 è pronto sapete che quando c'è il 90 per tutti coloro che lo vogliono acquistare a parte che costa una ciofega perché ripeto lo facciamo giusto per mi potete mandare un messaggio su whatsapp e io vi dico come fare apprendolo attendete per il mio gruppo abbonati tutti gli aggiornamenti attendete gli aggiornamenti che farò nella tarda tardo pomeriggio o in serata va bene ragazzi grazie ancora a tutti vi ringrazio per la fiducia volevo fare prima di salutarci prima di salutarci volevo andare sulla nostra tecnica eccoli qua questo è stato il video che ho fatto Milano Napoli per tutti occhio al 17 eccolo qui 10.000 vabbè non ci interessa 10.299 visualizzazioni 10 giorni fa avete capito perché siamo arrivati oltre 1.500 scontrini per non il giorno dopo Milano Napoli a tutta 8.661 visualizzazioni ok perciò Milano Napoli Terno video che ho fatto ieri sera 9 ore fa 6.000 visualizzazioni un canale con 18.000 iscritti che dirvi grazie 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 capitano è tutto un grosso besos ciao